Onorevole Borghesi, la Lega Nord quali emendamenti ha presentato in merito a questo decreto? Allora, l'emendamento più importante è quello relativo al patto di stabilità verticale, grazie al quale anche attraverso un accordo conferenza Stato-Regioni è stato possibile sbloccare altri fondi per le nostre regioni. Quindi questo emendamento che era stato proposto dalla Lega è stato accolto e quindi siamo molto soddisfatti di questa cosa. Oltre a questo? Oltre a questo sono stati presentati degli emendamenti per cercare di semplificare le procedure e gli interburocratici relativi poi ai pagamenti che le amministrazioni pubbliche dovranno fare verso le imprese creditrici. La priorità della Lega infatti qual è? La priorità della Lega è quella che questo decreto in tempi non brevi ma brevissimi sia operativo e permette lo sblocco di questi fondi in favore delle nostre piccole e medie imprese che da troppo tempo sono in sofferenza anche per via di questo patto di stabilità che in maniera vergognosa non ha permesso fino ad oggi allo Stato e agli enti pubblici di saldare i propri debiti.